salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi come avrete già visto c'è la neve ragazzi c'è la neve è la prima volta che capita da tipo 2-3 anni mai fatta la neve qui ragazzi troppo bella troppo felice qua non fa mai per quella volta che fa prima si blocca tutto e secondo me ti rende telecazzi che va a andare Grazie a tutti 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 Grazie a tutti